Gli amministratori al Comune di Larino si interrogano sul programma operativo della sanità. Interventi e dibattito lunedì a Palazzo Ducale nel corso del Consiglio monotematico. Le preoccupazioni dell'Associazione Vivi Larino sul futuro della sanità pubblica sono condivise dall'amministrazione guidata dal Sindaco Pino Puchetti. Lunedì 24 a Palazzo Ducale il Consiglio comunale esprimerà le sue valutazioni sul documento stilato in sede regionale sul programma operativo del prossimo triennio. Il piano nella premessa di molti amministratori molisani è stato approvato senza il coinvolgimento diretto dei sindaci. Esistono però alcune sostanziali come quella che non viene mai menzionato in esso alla Camera Iperbarica al dell'ospedale Vivi Larino. Punto di riferimento anche per i pazienti di Puglia, Campania e Abruzzo. Ferma ormai da più di un anno per l'assenza di un anestesista. Altro punto dolente sul POS è il centro operativo per la medicina territoriale previsto al Santimotio di Termoli. Nonostante il Vietre in quanto ospedale di comunità dovrebbe assumere il ruolo di rappresentare il territorio dell'intero Basso Molise. Infine, si chiede l'amministrazione frentana, ci saremo aspettati che all'interno della struttura larinese fosse prevista la riabilitazione ospedaliera dei pazienti acuti. Soluzione questa auspicabile per inserire al meglio il Vietre in termini di supporto all'ospedale di Termoli. Grazie. Grazie.